Il primo ciclo di incontri per la matematica per le scuole superiori nell'ambito dell'attività del nodo pisano del programma lincei e istruzione che è gestito e coordinato dall'Accademia dell'Incei. Questo è il terzo anno di attività. Nei due anni precedenti, per quanto riguarda questa specifica parte del programma relativa alla matematica per le superiori, abbiamo presentato una serie di lezioni su vari ambiti di applicazione della matematica in settori tecnologici o dell'economia. Per quest'anno, ecco questo è il primo incontro che riguarda problemi matematici e medicina. Stiamo adesso programmando, ancora non vi posso dire esattamente i termini, un secondo incontro che sarà più avanti in primavera e comunque veniamo a quello di oggi. Oggi ci parlerà il professor Preziosi, il professor Luigi Preziosi del Politecnico di Torino che è professore di fisica matematica e lui è veramente quello che si chiama un matematico applicato che studia le applicazioni, si occupa a fare ricerca su applicazioni della matematica in vari settori della scienza. Tanto ha diversi progetti che riguardano appunto la matematica e medicina, ma anche a vari settori dell'ingegneria, tra cui la dinamica della sabbia e delle valanghe anche. Ecco, insomma, se andate sulla sua pagina personale sul sito del Politecnico trovate tante informazioni e tante cose interessanti di cui si occupa. Bene, oggi sentiremo quello che ha da dirci sulla matematica e medicina. Grazie, grazie mille per essere venuti. Allora, un po' di una premessa. Allora, innanzitutto vi ho già messo il sito, questo sito di cui vi ha parlato il professor Ricci perché essenzialmente molto di quello che dirò potete trovarlo lì e scaricando anche una gran parte dei filmati che vi faccio vedere di appoggio diciamo al seminario, all'elezione e anche altro materiale che uso per altri corsi per cui, diciamo così, magari sarà un pochettino più complicato però, diciamo, più complicato nell'ottica di utilizzo nell'ambito delle lezioni al liceo però, insomma, può essere interessante. Se c'è del materiale che invece non c'è per esempio che non ho messo là per motivi di spazio oppure se volete, per esempio, queste slide in qualche modo basta che mi mandiate un messaggio di posta elettronica il mio indirizzo è proprio luigi.preziosi.polito.it quindi, chiocciola.polito.it e io, oppure, ovviamente, l'indirizzo di mail lo potete anche ricoperare da questa pagina web e poi io vi mando tutto il materiale che volete il secondo messaggio allora, io come ho strutturato la cosa? la presentazione l'ho strutturata dicendo, scegliendo alcuni argomenti e ve li presenterò nell'ottica che magari qualcuno di questi possa essere utilizzato o eventualmente anche nelle vostre lezioni, insomma magari non come lezioni, forse come mini progetti o quant'altro e quindi parlerò di modelli demografici modelli di fusione e legame con random walk cammini casuali, modelli di reazioni e diffusione con varie applicazioni diffusione di metastasi, chemioterapie formazione di vasi sanguigni diffusione di ossigeno da un capillare perfusione di un tessuto artificiale modelli di bilanci di massa crescita tumorale, crescita tumorale vascolare e poi gli individual base models io non so bene dove arriverò tanto, diciamo che dove arrivo metto punto e poi diciamo, la lezione che si farà la settimana prossima Marco Scianna insomma prenderà da lì dovrebbe essere una lezione un pochettino più interattiva ma che vi dirò poi alla fine infatti dovrebbe farsi al laboratorio allora quindi ripeto io prendo il punto di vista se vogliamo di come magari approcciare questi presentare questi argomenti a un ragazzo di liceo vediamo un po' il modello basilare spazialmente omogeneo che uno può fare di crescita crescita di una popolazione per esempio popolazione umana di cellule però prendiamo di umani allora uno che ho fatto desideramente guarda la popolazione a un certo tempo e vede l'affronte rispetto a un tempo precedente t con zero e dice che questa è variata per quale motivo? tendenzialmente perché sono nate delle persone e sono morte delle persone nell'intervallo di tempo no? benissimo questo è un modello è un modello che come di per sé potrebbe essere vero potrebbe essere falso ok? quindi tutto quello che io dirò tendenzialmente è vero fino a un certo punto ed è falso fino a un certo punto perché? perché per esempio io qua non sto considerando in questo modello fenomeni migratori uno potrebbe essere non morto e non nato lì però se ne è andato via da un'altra parte però per me è come se fosse morto in questo modello allora cosa succede? che se nell'intervallo di tempo posso identificare quello che chiamo un tasso di natalità cioè dico che in quell'intervallo di tempo il numero di nati è essenzialmente proporzionale all'intervallo di tempo per questo tasso di natalità ma riorganizzo tutti i termini dell'equazione cioè porto questo al primo membro e divido per t con uno meno t con zero e cosa mi compare? mi compare quello che si chiama il rapporto incrementale e quindi ho un'equazione che mi dice in quell'intervallo di tempo la popolazione è cresciuta in qualche modo perché c'è una natalità e c'è una mortalità ok? e questo secondo me è il modo più semplice per introdurre diciamo le se volete equazioni differenziali che vedremo fino ad ora molto semplice in cui avete una derivata del numero di di abitanti insomma della popolazione e questa è legata a un tasso di crescita meno un tasso di morte queste quantità gamma e delta sono positive e ora se nel modello voi dite quali sono diciamo le leggi di crescita e le leggi di morte in qualche modo uno può avere una evoluzione della popolazione nel tempo ok? questo è il modello più semplice che posso posso fare e quindi potete anche capire subito che se per esempio avessi una popolazione che non muore mai diciamo così le cellule tumorali mettiamole così non muore mai allora io che la derivata della popolazione nel tempo è una quantità positiva e quindi cresce sempre abbiamo una funzione crescente mentre invece se la popolazione muore perché non lo so avete tagliato i viveri e quindi non c'è possibilità oppure non lo so avete sterilizzato tutti quanti e allora la popolazione diminuisce nel tempo ok? ripeto questo è il modello più semplice ovviamente si può complicare si può mettere il sesso quindi distinguere maschi e femmine si possono mettere cose tipo l'età se state pensando alle cellule bisogna mettere il ciclo cellulare e quant'altro insomma uno può fare modelli con delle strutture più complicate ma non è il caso ora perché io quello che il motivo per cui ho introdotto questo è perché devo arrivare in maniera semplice a descrivere cosa vuol dire una derivata parziale questo è un concetto che ovviamente a scuola non si fa però insomma la derivata di n rispetto al tempo a questo punto quel simbolino là vuol dire come varia n nel tempo quando io considero la posizione fissata quindi come guardo a un punto e vedo in quel punto come varia la mia variabile la n e invece dn su dx vuol dire che non è che faccio variare il tempo ma faccio variare lo spazio in un istante di tempo quindi io ho una distribuzione che magari è eterogenea dal centro della città fino alla periferia e so che arrivando dal centro alla periferia la mia che ne so densità di popolazione diminuisce fino ad arrivare praticamente a zero fuori dal dal centro insomma e quindi questa è la derivata temporale e spaziale un altro concetto che utilizzerò molto spesso in questa presentazione è il gradiente che è semplicemente un vettore che ha come componente queste derivate nelle tre coordinate spaziali x, y e z in particolare quello che utilizzerò è il gradiente di concentrazione di qualche cosa essenzialmente di una molecola quindi sto pensando al fatto che potrei avere in un in un tessuto un certo distribuzione di ossigeno e a questo punto data questo campo di densità questa è la densità questa concentrazione in funzione di x e y supponiamo che sia nel piano allora ci sta in questo caso una zona una zona in cui ce n'è di più di questa concentrazione essenzialmente il gradiente in un punto misura qual è la direzione di crescita massima di quella concentrazione perché è importante perché in biologia ci sono dei fenomeni in cui che si chiamano per esempio chemotassi per esempio in cui le cellule vogliono andare nella direzione vogliono seguire diciamo vogliono andare verso una un luogo in cui c'è maggiore disponibilità di qualche cosa per esempio di ossigeno allora io dal punto di vista modellistico si mette un termine che è proporzionale al gradiente di concentrazione di quella quantità e quindi io avrò che le cellule tendano ad addensarsi verso questo questo massimo qua è un po' come insomma diciamo così quando uno sente l'odore del caffè e tende ad andare verso il caffè e questa è una è una piccola cosa perché di fenomeni del genere in biologia ce ne sono tantissimi si chiama chemotassi aptotassi durotassi tutte le motivazioni che in qualche modo portano le cellule a muoversi da un posto verso l'altro oppure andare via da una posizione ok detto questo diciamo dal punto di vista dei mattoni io ho tutto per poter costruire quello che si chiama un'equazione di diffusione però prima di arrivarci preferisco presentarla nella maniera diciamo discreta ok cioè con quello che si chiama random walk oppure se volete il cammino dell'ubriaco quindi immagino di discretizzare il mio spazio immaginiamo quindi una linea e di discretizzare questa linea in varie in vari punti tanti g-1 g-2 j eccetera eccetera e ho quindi poi delle probabilità di transizione delle transizioni da un nodo all'altro si chiama il cammino dell'ubriaco perché essenzialmente l'immagine che si dà è quella di un ubriaco che segue lungo una strada a tanti bar e esce da un bar e se ne va al successivo che va da una parte o dall'altra e uno poi vede la distribuzione di questa popolazione di ubriachi sulla linea quindi uno ha diciamo una non parliamo di ubriachi parliamo di molecole una quantità di molecole che sta nel nodo nel nodo J e c'è una probabilità che vada a destra e una probabilità che vada a sinistra e quindi a seconda di questi movimenti il numero di molecole che si trovano nel nodo J cambia cambia perché gli arrivano per esempio molecole dal nodo J-1 e se ne vanno qualcuna al nodo J-1 e viceversa quindi alla fin fine se uno fa i conti uno ha una formula che è bella lunga che dice allora U è il numero delle molecole per esempio quante molecole ci sono a un istante di tempo che chiamo I-1 in quel nodo J allora qua quello che sta scritto qui è questo allora questo è il numero di molecole che ci stavano prima e sono rimaste là ok? che ci stavano prima poi ci sono quelle che dal nodo J-1 sono andate a J cioè queste qua ok? diciamo così una certa percentuale di quelle che stavano qui che sono entrate quindi questo che è? questo è un termine di crescita diciamo così che aumenta il numero di molecole che stanno nel nodo J oppure ho quelle che sono andate a J venendo da qui quindi ho il numero di molecole che stavano nel nodo J-1 con una certa transizione da J-1 a J questi due contributi quindi aumentano il numero che saranno qui però poi devo considerare quelle che hanno fatto il cammino contrario cioè che da qui sono andate o a destra o a sinistra e sono questi termini qua no? questa è una Ui J e ho una transizione da J a J-1 a sinistra e da J a J-1 a destra allora riorganizzo tutto se riorganizzo tutto cioè essenzialmente immagino che questo questa transizione è proporzionale all'intervallo di tempo cosa che è abbastanza logica quindi vedete qua non ci sono più le tilde c'è un altro P proporzionale al delta T e metto insieme questo metto in evidenza Ui J ho un'equazione di questo tipo qua ora per fare le cose più semplici se queste probabilità queste transizioni sono uguali cioè non c'è nessun bias nessuna nessuna dipendenza dallo spazio per esempio allora quello che succede scusate prima posso fare lo stesso giochetto di prima posso portare questo al primo membro dividere per delta T e cosa ho? ho come varia la quantità di molecole nel nodo J no? per lo stesso meccanismo di prima poi dicevo se queste P sono tutte costanti alla fin fine io quello che ho che se sono tutte più o meno di questo tipo di questo tipo scusate di questo tipo qua e allora ho che quella somma lì diventa questo e allora questa è se voi andate a vedere equivalente a una derivata seconda al rapporto incrementale di una derivata seconda di U rispetto allo spazio perché voi state con tanto diciamo quello che succede la variazione fra il nodo J-1 J e J-1 che sono delle quantità che riguardano lo spazio ok ho dimenticato cosa volevo dire vabbè quindi questo vi dà luogo a questa equazione qui che è l'equazione di diffusione dimmi ma perché la proprietà dovrebbe essere inversamente un'equazione al quadrato della distanza? diciamo che allora se uno ha questa proprietà qui se uno ha questa proprietà qui riesce a fare un limite in cui viene questo altrimenti ha dei casino ok se invece diciamo così non fosse costante allora una delle equazioni un pochettino più complicate e vabbè ovviamente questo si può vedere in un'altra maniera probabilmente più complicata nel senso che uno può invece partire da questa equazione e dire ma sai che c'è se questi sono abbastanza vicini faccio quello che si chiama un'espansione in serie vado a sostituirle e mi viene questa cosa qua ok? ma questo secondo me è un pochettino più complicato da spiegare allora vediamo un po' questa è una dimensione ovviamente la cosa funziona anche a più dimensioni a due o tre dimensioni per rimanere in quelle fisiche per cui la generalizzazione che di nuovo invece di avere di contare quello che succede solo su una linea nel nodo in questo nodo qui possono arrivare molecole persone quello che volete da i nodi vicini e possono e quindi queste aumentano la quantità di molecole che stanno qui e possono andare via persone andando negli altri nodi dal punto di vista diciamo numerico quello che sto facendo non è nient'altro che fare uno schemino che si chiama differenze finite che quindi è anche implementabile in maniera semplice numericamente e quello che fa è quello che che ho detto prima cioè uno conta di nuovo il numero di cellule che sono in un nodo al tempo t conta quelle che c'erano al tempo precedente aggiunge quelle che vengono dal nodo vicino e elimina quelle che vanno a un nodo vicino allora cosa succede? quello che succede è questo questo è proprio una una simulazione alla ok proprio sulla griglia quindi se volete è una simulazione discreta di quello che vi ho appena detto avete delle palline che si muovono e vanno a destra a sinistra con ugual probabilità ok? quindi sono partite tutte quante addensate inizialmente nella stessa nella stessa zona e con l'andare del tempo vedete si disperdono anzi diffondono vi faccio osservare due cose ok? due cose la pallina gialla e la pallina verde quella verde è una di quelle che se ne va più lontano ok? questa gialla fa un sacco di moine però poi alla fine sempre la rimane ok? però ripeto ognuno decide di andare a destra a sinistra sopra o sotto con la stessa probabilità uno ha solo un numero casuale che gli dice dove andare dopodiché se uno ecco questa è un'altra simulazione nel piano e ha diciamo ha messo invece di una pallina un tot di pallina al centro e piano piano queste se ne vanno se ne vanno a destra e a sinistra e alla fin fine la soluzione che si ha se uno vuole andare a vedere è una gaussiana una gaussiana allora vabbè detto questo questo diciamo è la soluzione basilare come costruire a partire da questo modello modelli che hanno qualche ingrediente in più allora come leggere questo io dico sempre come leggere questa cosa qua qua sta scritto allora in questa equazione uno può dire che questo termine qui può voler dire come cambiano le cellule il numero di cellule il numero di molecole nel tempo cambiano perché diffondono perché vanno diciamo si muovono di modo casuale andando a destra e a sinistra ok e questa è un'altra simulazione diciamo nello spazio e questa diciamo un'altra simulazione di quello che avviene nel continuo purtroppo questo si vede poco però non è più discreta questa questa è la simulazione continua di quell'equazione cioè di quell'equazione di rate parziale partendo da una soluzione da una condizione sia di tipo campana voi avete che piano piano si diffonde tutto e visto che la massa si conserva sta sempre dentro al cerchietto non può uscire alla fine la soluzione sarà omogenea prendete il latte lo mettete nel caffè alla fine avete il latte e il caffè che è tutto quanto omogeneo ok questa è la situazione che vi dicevo in cui le probabilità diciamo di andare a destra e a sinistra sopra e sotto sono uguali ora purtroppo però in molti dei problemi questo non è vero per esempio innanzitutto uno potrebbe avere che questa possibilità di muoversi dipende da dove si sta quindi avete un problema che non è omogeneo è eterogeneo ma non solo ma quello che succede anche molto spesso è che la probabilità di andare a destra a sinistra è molto più facile che andare sopra e sotto ok questo succede soprattutto in strutture che hanno per esempio delle fibre e poi vi faccio degli esempi allora voi avete che andare qui è molto più facile che andare qui ok questa è quella che si chiama diffusione anisotropa perché avete due direzioni diverse e dal punto di vista diciamo delle equazioni si rispecchia nel fatto che il coefficiente che sta davanti a queste derivate seconde che ho chiamato di x e di y sono diverse sono diversi coefficienti ok punto di vista discreto cosa succede? succede questo più o meno è molto simile a precedente però se voi andate a vedere un po' più da vicino vedete che insomma mal contato è molto molto più facile andare da qua che non da qua cioè se uno volesse rappresentare un po' l'area che viene ricoperta da queste palline non è più una cosa circolare ma è un pochettino più ellittica infatti la soluzione è di tipo ellittico cioè una gaussiana però su un campo in cui ci sono due coefficienti su x e y che è questo qua questa è la soluzione ecco qua questo è quello che si ha questa è la soluzione dell'equazione di diffusione nel caso in cui la diffusione lungo x è più facile che la diffusione lungo x è una diffusione anisotropa queste sono delle sezioni di questa distribuzione in questa direzione qua e in questa direzione qui ok sempre osservate più o meno partendo da una distribuzione concentrata è sempre una distribuzione di tipo campana ok reazione diffusione a questo punto io ho esigenza visto che sto parlando di molecole di includere nel modello dei fenomeni per cui le molecole mentre si muovono di questo modo casuale diciamo così reagiscono quindi o reagendo scompaiono oppure vengono prodotte ok quindi è la stessa cosa che dico per le molecole varie per le cellule se pensano insieme di cellule le cellule possono muoversi di modo casuale sul mio vetrino possono duplicarsi o possono morire quindi il numero di cellule che stanno in un certo punto di questa mia griglia sono uguali a quelle che stavano prima quelle che nascono no scusate quelle che che diciamo che si muovono poi devo contare quelle che nascono diciamo col segno più perché aumentano il numero di cellule in un nodo e devo levare quelle che muoiono oppure se volete le proteine consumate questo facendo lo stesso giochetto di prima questi due termini mi danno luogo alle stesse cose che ho visto all'inizio questo gamma e questo delta ok allora questa così è un'equazione che è un'equazione di reazione diffusione questi sono i termini di reazione e questo è il termine di diffusione perché è importante perché se io voglio fare dei fenomeni in cui per esempio voglio discutere dei appunto delle distribuzioni di molecole in un ambiente devo considerare questi fenomeni qua altrimenti diciamo così è un modello parziale non ho nascita e morte di cellule altro fenomeno che considereremo è quello della convezione cioè che certe volte non c'è solo la diffusione nel muovere le molecole ma in qualche modo le molecole possono essere contemporaneamente trasportate con una certa velocità per esempio immaginate un inquinante in un fiume se avete buttate un po' di vernice in un fiume ovviamente viene trasportata dalla corrente mentre viene trasportata si diffonde quindi la macchia della tannica di vernice si allarga e magari che ne so contemporaneamente viene degradata da batteri non lo so non è vero però insomma immaginiamo allora che cosa succede che questo termine nuovo mi darà luogo a un altro termine che sta qui questo qua ok questo quindi è vero che dal punto di vista appunto del linguaggio se uno vede questa equazione qui e non è addetto al settore può in qualche modo spaventarsi però se uno sa tradurre i vari termini in qualche modo capisce cosa vuol dire un pochettino come si fa con con i geroglifici che ne so questo vuol dire allora u cambia cambia nella derivata nel tempo questo è perché la u viene portata viene trasportata con una velocità v mentre viene portata con una velocità v si muove di moto casuale quindi c'è un termine di diffusione e poi mentre va avanti il tempo può essere che ne so parlo di molecole può essere prodotta e può essere degradata ok e questo è un modello diciamo probabilmente di convizione reazione diffusione che include un po' tutto quello che dirò oggi o quasi tutto giusto per vedere cosa succede nell'immagine delle palline di prima questo è quello che succede io qua ho dato una velocità v verso destra e ora vedete che mentre in qualche modo si diffondono perché si sta allargando piano piano queste si muovono a destra e escono fuori dal campo visivo ok in questo caso è costante l'ho data costante però si in questo momento è costante però poi uno può dare quello che si vuole tanto per dire quello che dicevo prima se io ho un fenomeno di chemotassi e quindi la cellula vuole andare verso un posto perché là c'è che ne so l'ossigeno allora c'è questa direzione il vettore che mi dicevo guarda vai di là che sarà il mio V preferenziale certo che mentre mi muovo magari c'è un moto casuale e quindi contemporaneamente mi diffondo e quindi che ne so facendo vedere il secondo firmato o anche quello lì se volendo queste qui potrebbero benissimo essere delle cellule in cui qua ho messo il mio capillare la mia sorgente di ossigeno queste sono cellule che si muovono però tendono piano piano ad andare verso di qua ok dal punto di vista continuo dal punto di vista continuo questo è quello che succede diciamo all'esperimento ok metto qualche cosa nel fiume che scorre a valle ci sono varie cose da notare qui questa è la mia che ne so inquinante acqua sporca mentre viene portata a valle questa campana una bella anche questa qui si allarga sempre di più si abbassa diventa sempre meno rossa la verrete sempre meno rossa e viene trasportata è sempre meno rossa vuol dire che questo è questo che sta qui è nel tempo la quantità che ne so di quell'inquinante che è passato in A il blu quindi vedete prima non c'era poi è arrivato c'è un massimo poi è passato e poi non ce n'è più nel punto B che è presente sta sulla stessa linea visto che nel frattempo la quantità ha diffuso un po' ne arriva di meno cioè il massimo in meno ok in C che sta lontano da questo massimo ovviamente ne arriva sempre ancora di meno queste sono delle evoluzioni temporali nei vari punti ok e diciamo che il mondo dell'applicazione è pieno diciamo di appunto di applicazioni che usano questo tipo di equazioni qui dal punto di vista diciamo operativo ovviamente cosa succede che per avere delle simulazioni che lavorano sul continuo quindi direttamente con queste equazioni qua effettivamente uno deve avere o dei software dei tool che utilizzano insomma che utilizzano che siano un po' user friendly insomma che in cui uno scrive l'equazione scrive vari termini e vede qual è l'output però è un po' più difficile da farlo farselo da soli invece dal punto di vista discreto insomma se uno lavora sul discreto cosa vuol dire dare un termine di trasporto vuol dire dire oh non è che è uguale andare a destra e a sinistra ma visto che ho una tendenza ad andare a destra maggiore perché ho una velocità che va verso destra c'è più probabilità di andare là quindi non ho che ne so un quarto un quarto un quarto e un quarto un quarto probabilità di andare a destra un quarto di andare a sinistra un quarto sopra un quarto sotto ma avrò che ne so un terzo due terzi no due terzi forse un po' troppo però devo ridistribuire queste probabilità per avere un po' un maggiore probabilità di andare verso la direzione data da questo V qua però in maniera di scritta si fa abbastanza facile allora prime applicazioni allora quello che vedete qui è appunto un modello molto semplice di tumore al seno in un mezzo eterogeneo ok quindi quello che succede è che la diffusione vedete che infatti il coefficiente di diffusione non sta fuori ma sta dentro la diffusione non è uguale dappertutto perché? perché ovviamente in un tessuto tendenzialmente ci sono delle zone che sono più difficili da penetrare magari anche impossibili e altre che sono più semplici allora se io ho una piccola zona in cui inizialmente ho identificato una massa tumorale e immagino che queste cellule che stavano prima lì si muovano di modo casuale quindi diffondano di nuovo in questo tessuto eterogeneo e mentre di fondo crescono perché si duplicano il modello più semplice che posso dedurre per descrivere questa situazione è questo qua a questo punto capite cosa vuol dire questo vuol dire che la concentrazione di cellule in un certo istante di tempo e in una certa posizione cambia nel tempo perché le cellule si muovono diffondono e questo termine è il termine di crescita termine di crescita che mi dice per esempio che il tasso questo qua coefficiente il tasso di natalità è costante quindi diciamo si produce si nascono cellule sempre nuove a una certa velocità costante per esempio qui notate che non c'è nessuna possibilità di morte quindi cosa vuol dire vuol dire che se avessi una situazione omogenea quindi non c'è questo termine qua questo cresce sempre e cresce come? cresce esponenzialmente cioè se non ci fosse questo come vedremo più in là qual è la funzione la cui derivata è proporzionale alla funzione è l'esponenziale quindi questo vi prevede una crescita esponenziale della concentrazione in una situazione omogenea solo che in questo caso mentre cresce esponenzialmente contemporaneamente si allarga ok? ma non solo visto che il tessuto è eterogeneo e questo in qualche modo lo avete vabbè questo è fittizio e non è vero che è una immagine diagnostica uno ha in linea di principio un esame diagnostico sa come sono fatte le cose e sa come evolverebbe la situazione nel tempo ok? questo invece è reale questo è quello che si fa veramente il modello è lo stesso vedete? il modello è sempre quello ed è un glioblastoma questo è cosa? qua ci sono un po' di cose da dire allora prima cosa questa immagine che vedete qui nera questa qui è quello che si vede vediamo qua questo cos'era? una risonanza magnetica questo è cervello queste sono sezioni dello stesso cervello queste sono le tre sezioni ok? questa è orizzontale questa è questa è questa è saggettale questa non mi ricordo come si chiama comunque sono le tre sezioni ok? in linea di principio uno avrebbe un'immagine tridimensionale chiaramente non la posso far vedere allora cosa succede? che se voi vedete e vi immaginate un'immagine di risonanza magnetica quello che voi trovate un'immagine essenzialmente a colori bianco e nero insomma con una zona bianca e uno dice ah là c'è qualche cosa benissimo quel qualche cosa che si vede non è essenzialmente tutto quello che c'è ma è quello che è rilevabile dall'esame di agnostico cosa voglio dire? voglio dire che voi quello che in genere vedete quello che si vede dall'esame di agnostico è solo la diciamo così punta dell'iceberg mettiamola così poi c'è anche qualcosa che sta sotto quindi la prima cosa che un medico vorrebbe sapere e un modellista matematico può fare questa è una appunto una matematica che lavora in un ospedale allora stava a Washington ora sta a Chicago e fa questo dalla mattina alla sera ripeto non è che ci vuole molto io non so ma probabilmente al terzo anno forse a qualche università al secondo anno in matematica magari già hanno visto questa equazione qui ok quindi non è che ci vuole questa grande pozzo di scienza per lavorare con questo quindi alta matematica però lei questo fa dalla mattina alla sera prende immagini e fa delle proiezioni su cosa ok se io vedo questo molto probabilmente il tumore non è solamente in questa zona ma c'è una probabilità di andare ben oltre questo è un caso un pochettino grave potete capire perché insomma ci sono cellule tumorali per metà cervello e quindi non è non è proprio il massimo del massimo perché questo è un altro paziente non solo ma quello che si può fare è una cosa c'era anche qui ma ovviamente è la stessa immagine ok è quello di prendere immagini successive avere due immagini l'immagine successiva da cosa da una permette di valutare nel tempo quello che sta succedendo ok cosa che un'immagine sola non vi dà l'immagine sola vi dà una fotografia ok quindi non potete dire da una fotografia se quello stato di patologia è venuto in 10 anni o in 30 anni e quindi non sapete diciamo così di estrapolare e questo è fondamentale perché se io devo operare e levare metà cervello a questo paziente ok devo capire se mi conviene se conviene al dottore farlo o non farlo cioè quanto velocemente sta progredendo questa malattia se ci mette altri 30 anni e il paziente ne ha 60 e vabbè probabilmente non ne vale la pena cioè diciamo così anche gli effetti sarebbero più deleteri di quanto di quanto non sono i vantaggi no e questo si può fare avendo due fotografie quindi lei prende due fotografie a due istanti di tempo e poi in qualche modo estrapola quello che potrebbe succedere andando a valutare cosa i due coefficienti d e rho perché questo non ve lo dà nessuno uno li deve misurare a seconda di come d e come è rho uno sa quanto velocemente sta crescendo questo tumore e quanto è diciamo si direbbe aggressivo in termini di metastasi cioè va lontano perché alla fine fine per esempio in un tumore se il tumore rimane fisso in una certa zona non è tanto patologico ma quello per cui uno muore è proprio il fatto che diffonde metastasi dappertutto ok e non solo questo ma alla fine quello che importa di più è avere anche uno strumento di supporto a quello che vuole fare il medico voglio dire immaginate di avere una situazione del genere ricordo quello nero è quello che uno vede dall'immagine diciamo diagnostica ok e allora facciamo finta che il medico sia un ignorante dice ma io vedo questo sa che c'è io taglio taglio solamente un attimo solo solamente fino fino a qua taglio la parte nera ok ma invece come abbiamo detto prima visto che quella è una diciamo una parte che io riesco a vedere della soluzione dell'equazione di diffusione quindi della mia campana sto vedendo solo la cima ci stanno tutte le code quindi in effetti ci sono cellule che stanno in una zona dove io non ho tagliato quindi c'è questo ok allora questo tende a ricrescere e avere quello che si chiama una ricomparsa in sede primaria cioè il tumore che sta nella stessa sede e quindi avanza nel tempo anche dopo la lobotomia e quindi uno ha che qua ricresce il tumore e dopo in questo caso dopo tre anni uno si è accorto che insomma ha la stessa situazione di prima e bisogna fare un'altra magari un altro intervento eventualmente non lo so questo è semplicemente diciamo ipotetico senza aver fatto nessuna terapia chemioterapia quant'altro quindi solo sono così quindi questo è quello che succederebbe facendo quel tipo di intervento certo che ora cosa succede? c'è un'altra proprietà ne discutivamo proprio prima eccetera dell'equazione di fusione che in effetti è un po' un paradosso se volete se voi ammettete una molecola diciamo a mare buttate a mare dell'inquinante va subito a New York ok? cioè la soluzione in qualche modo di questa campana non è mai zero non è a supporto compatto non è delimitata ma va subito lontano cosa vuol dire da questo punto di vista? che se anche il tumore è localizzato è localizzato qui e uno dice ah sai che c'è allora vedo vedere qual è la soluzione dell'equazione di fusione che mi dà questa forma beh io ho una probabilità non nulla di avere una cellula tumorale qua in fondo ok? quindi cosa faccio? devo levare tutto per essere sicuro che non ci sono più cellule tumorali non mi sembra molto utile insomma avere un paziente completamente senza cervello però è anche vero che se ce ne sono poche e beh ci metteranno che ne so magari ci metteranno 10 anni noi stiamo parlando di un tumore in cui l'aspettazione di vita se 18 mesi il grasso che cola ecco ok? quindi 10 anni è ancora ancora accettabile allora queste sono invece delle simulazioni quelle sono snapshot queste sono delle simulazioni di quello che vi ho detto ora in un tessuto anisotropo di quello che succede questa è crescita libera questa è crescita libera cioè come si espanderebbe potete vedere quello che vi dicevo prima perché appunto il cervello è un tipico tessuto ce ne sono ne è pieno il corpo umano ma è un tipico tessuto anisotropo perché in questa zona questa è la zona diciamo periferica chiamata la materia grigia appunto qui è abbastanza isotropo il materiale e invece in questa zona qui dove corrono gli assoni cioè nella cellula neuronale ci sono dei filamenti molto lunghi che sono diciamo hanno hanno il compito di trasferire informazione da cellula a cellula che sono diciamo corrono lungo queste specie di strade beh la struttura è molto anisotropa cosa vuol dire dal punto di vista se volete quella descrizione che vi ho fatto prima che se una cellula si muove di moto casuale e si trovi in un'autostrada che è fatta di fibre tutte allineate è molto più facile che segua le fibre piuttosto che le attraversi quindi quando una cellula si trova qua è molto più facile che segui questa questa strada piuttosto che vada in quest'altra zona ok infatti qui potete vedere che qui non è tanto circolare ma vedete che fa un po' la punta ci sono queste punte verso le zone anisotrope sono le zone preferenziali di movimento quindi è come se quando uno si muove in una città molto grande cosa fa piuttosto che prendersi la viuzza ma si prende una bella strada a scorrimento veloce e sicuramente arriva a casa prima allora giusto per essere positivi questo invece è una situazione in cui diminuisce perché? perché ci ho aggiunto un chemoterapico cioè ho supposto che nel termine io riesca a infondere il mio paziente in maniera continua un qualche chemoterapico che mi fa morire le cellule cosa che non ho mai fatto per il momento ossia se volete nell'equazione iniziale che è questa a questo ρc ho levato ho detto che c'è una probabilità di morte delle mie cellule quindi ho aggiunto un qualche cosa che sia un meno dc di tasso di mortalità per c e questo d è costante nel tempo allora se io faccio questa cosa qui è ovviamente il tasso di mortalità deve essere minore del tasso scusate maggiore del tasso di natalità cioè io ne devo ammazzare più di quanto nascono se no non ha senso nemmeno fargli fargli prendere il chemoterapico quello che succede lo vedete subito da quando ecco a un certo punto incomincia a regredire fino a scomparire perché la soluzione sarà muoiono tutte insomma la soluzione stazionare è quella ok terzo problema ovviamente capite che voi non potete mettere prendere un paziente e metterlo in in terapia sempre cioè a dargli pastiglie sempre altrimenti non morirà tanto di tumore ma morirà di mal di fegato tendenzialmente non solo poi ci sono degli altri problemi vabbè quindi cosa si fa si fa uno scheduling cioè si dice allora tu fai tre cicli spero che nessuno ne ha avuto mai a che fare ma purtroppo devo dire la verità che è sempre così fai che ne so cinque giorni per 21 giorni poi torni a casa aspettiamo un mese lo rifai poi si controllano tante cose insomma ci sono tante cose per cui c'è una periodicità quindi quel coefficiente che vi ho detto prima costante non è vero che è costante ma è una funzione del tempo dipende dalla terapia che uno dà e quindi a questo punto viene fuori un problema di controllo cioè di dire ok io ho il mio farmaco il mio farmaco ideale oppure se volete reale come qual è la terapia migliore che io devo somministrare al paziente ok allora è chiaro che capite qua che avere uno strumento di modello c'è una figura qui su cui io posso testare virtualmente una terapia è molto meglio che prendere un paziente e dire sai che c'è con te proviamo sette giorni e poi a casa ok e anche molto più veloce perché per fare una situazione del genere mi basta un'oretta per fare una prova con un paziente devo fare almeno che ne so un mese quindi posso testare molte più cose e questo è quello che si fa ora giusto per per dirvi tante altre cose poi ci sono tanti legami che uno deve dire non è che uno può fare un problema di ottimizzazione messo così perché devi dire ok la tolleranza parte da parte del paziente di quel farmaco quindi quanto è tosto quanto è duro insomma digerirlo dal punto di vista del sistema del fegato eccetera ma anche cose assurde tipo i turni degli infermieri eh no mi dispiace dobbiamo fare solamente cinque giorni alla settimana perché sabbia e domenica devono andare a riposare quindi il problema diventa un pochettino più complicato di così però ripeto date le condizioni generali uno sa come sa istruire il problema vedere di trovare qual è l'ottimo non solo questo ma in linea di principio questo è possibile farlo paziente per paziente ed è quello che si fa si tende a fare oggi nel senso di dire ok io ho un paziente ho misurato i suoi chiamiamolo così parametri della malattia che ha allora a questo paziente in linea di principio potrei dire guarda a te ti conviene fare così all'altro conviene fare in un'altra maniera purtroppo non siamo ancora in questo stadio ma è quello che si tende a fare in questo momento queste terapie purtroppo sono abbastanza standard e devo dire sono standard soprattutto per motivi di assicurazione nel senso che se tu fai una terapia non standard se muore il paziente è facile che qualcuno possa fare causa al dottore invece se uno ha una terapia standard dice no questo è stato sai questo è Food and Drug Administration negli Stati Uniti che me l'ha detto io ho fatto quello e quindi non puoi non puoi chiedere niente però in linea di principio qualcosa di meglio si potrebbe fare altre terapie e altre cose che si possono dire sulla base di questa equazione un'altra terapia che diciamo parlando dei dei tumori o comunque dei gliomi si sta proponendo è quella che si chiama la convection and mass delivery poi vi spiego meglio cosa vuol dire questo ma essenzialmente vuol dire fare una siringa in loco quindi cosa succede che io il mio farmaco lo inietto in una certa zona per un intervallo di tempo o per piccolo o grande e il farmaco si diffonde ok quindi diciamo che lo schema è quello di prima e prima avevo un certo numero di molecole che si muovevano a destra e a sinistra ora però io in un certo punto dove faccio l'iniezione una infusione continua oppure diciamo a intervalli di tempo regolari del mio farmaco se è un posto facilmente raggiungibile e allora è facile fare una iniezione altrimenti uno ha un catetere e si insomma si attacca la flebo periodicamente allora cosa succede che vale nella maggior parte allora diciamo così che molti dei tessuti del corpo umano sono dei tessuti che si chiamano porosi cioè sono come delle spugne bucate quindi e il liquido passa attraverso i canali nella spugna e nel novecento quello che si è trovato è che il moto dell'acqua in questi materiali è proporzionale al gradiente di pressione cioè uno ha una una pressione dalla parte di questa spugna e diciamo pressione nulla insomma una pressione maggiore da una parte che dall'altra e questa differenza di pressione fa sì che il flusso è costantemente attraversa costantemente attraversa la spugna ok e allora cosa succede che ecco questo avrei dovuto dirlo prima questo ve lo chiarisco più in là alla fin fine quello che succede è che l'equazione del moto viene a essere questa qua uno deve fare quello che si chiama la divergenza di questo campo purtroppo mi sono accorto ora questo e viene fuori un'equazione che è un'equazione di nuovo con una derivata seconda con una derivata seconda è la pressione e uguale a 0 ok nel caso omogeneo viene questo qua nel caso omogeneo in cui quel k è omogeneo viene semplicemente la pressione di più uguale a 0 ok allora visto che stiamo parlando di cervello parliamo del cervello quindi la situazione è questa io ho un catetero oppure se volete un ago di una siringa che arriva in una certa zona in cui molto probabilmente inizialmente c'era un tumore è stato operato e uso questa via preferenziale per iniettare in loco del farmaco per quale motivo? perché così diciamo innanzitutto si può usare meno farmaco ed è ovviamente in loco quindi per esempio una quantità di minore di farmaco va nel nel fegato e vabbè per tante altre cose cioè ci sono dei fenomeni fisici per cui insomma ingerire un farmaco per farlo arrivare al cervello è veramente dura insomma invece così si supera questa barriera si chiama barriera ematoencefalica e allora quello che succede è questo questa è la situazione in cui diciamo il farmaco viene iniettato e diffonde nel tempo nel mio tumore se ho che questo farmaco viene assorbito rapidamente dalle cellule viene iniettato viene tutto assorbito dalle cellule e ovviamente questo è un farmaco che deve essere in questo caso citotossico cioè deve far morire le cellule e quindi quelle cellule muoiono la speranza è che uno con con la probabilmente avendo fatto un intervento prima ha levato la massa diciamo dura centrale e così insomma leva quelle parti periferiche parti periferiche di metastasi che sono andate in giro per tutto il cervello ok allora va benissimo perfetto volevo dirvi un'altra cosa che non ho detto prima ma secondo me è carino dirvelo qual è la tutta quanta la la difficoltà anche in fare tutto questo perché vi ho detto per esempio che per fare queste analisi ci sono ci vogliono come minimo due risonanze magnetiche no però ci sono due tipi di difficoltà in questa operazione la prima è che ovviamente se uno fa una risonanza magnetica oggi e scopre di avere un tumore e si sente dire dal medico sai che c'è aspettiamo un attimo tre mesi così ne facciamo un'altra e vediamo cosa succede io prima di tutto penso che il paziente non sia proprio così contento di aspettare tre mesi con una bomborlogeria in testa la seconda cosa è che costa ok quindi per esempio una volta che sono andato a Rizzoli a Bologna loro mi dissero per esempio mi chiesero se io con un modello matematico con un esame con una risonanza magnetica fatta prima dell'intervento e una fatta dopo dell'intervento potevo prevedere se il paziente sarebbe sopravvissuto sarebbe morto e purtroppo devo dire che questo mi sembra un po' eccessivo poter dire insomma perché ci vuole un po' di informazioni in più per poter applicare veramente queste cose allora detto questo ora voglio fare il passaggio contrario parlarvi di angiogenesi ma diciamo l'ottica è invece il contrario io cosa ho fatto fino ad ora vi ho detto ho preso l'equazione di diffusione e ve l'ho fatta comparire in qualche modo partendo dal discreto e arrivando al continuo questi modelli che vi presento invece fanno il contrario cioè partono da un'equazione continua e poi la discretizzano e vi faccio capire per quale motivo il processo ovviamente è lo stesso è sempre lo stesso chiamiamolo così algoritmo solo che per motivi numerici si viene discretizzato allora cosa è l'angiogenesi? avete capito che io essenzialmente mi sono approcciato all'applicazione della biologia per diciamo per interesse nel campo tumorale allora l'angiogenesi è un fenomeno fisiologico per cui quando c'è una ferita c'è una stimolazione da parte del corpo umano nel creare nuovi vasi sanguigni per quale motivo per portare più nutriente diciamo più mattoni nella zona chiamiamola ferita e far sì che la zona ferita si rimargini questo essenzialmente è la zona quando uno si fa una ferita è quel rossore della ferita che uno vede dopo qualche giorno ok quello che dopo che la ferita sta guarendo prude in un tumore che si chiama anche la ferita che non cura mai e questa è una situazione patologica ed è stimolata dal fatto che il tumore proliferando un sacco richiede un sacco di nutrienti e richiedendo un sacco di nutrienti va spesso in quello che si chiama ipossia cioè mancanza di nutrienti mancanza di ossigeno per cui stimola il manda diciamo dei segnali manda dei segnali quindi questo è il tumore produce dei segnali ed è un un fattore chimico che fa il fattore la molecola si diffonde cioè si muove di moto casuale raggiunge il vaso sanguigno e quello fa produrre delle cellule fa duplicare delle cellule delle pareti del vaso sanguigno cellule endoteliali che si muovono perché motassi e anche di moto casuale che motassi dicevo quel moto diretto verso il tumore allora così facendo da un vaso da un capillare preesistente ho dei capillari secondari che mi portano diciamo l'ossigeno dove voglio e devo dire che per fino a un vent'anni fa si era pensato che una terapia efficace sarebbe potuta essere semplicemente quella di eliminare questo fenomeno perché eliminando questo fenomeno uno faceva sì che il tumore non aveva più nutriente e quindi moriva ok non fa una grinza dal punto di vista logico no peccato che purtroppo le cellule del tumore sono intelligenti nel momento in cui sta morendo attivano un moto migratorio per cui diffondono molto più spesso e sono loro che arrivano fino al capillare formano metastasi e a questo punto buonanotte suonatori quindi quella che sembrava una terapia permettente non lo è stata infatti oggi si parla del contrario di normalizzare i vasi sanguigni allora ecco qua il modello è molto complicato molto più complicato di prima richiede più equazioni questa è un'equazione per le cellule prima dei capillari ok cosa potete riconoscere potete riconoscere un termine di diffusione questo termine di diffusione questo qui è invece un termine quello che è motattico anzi questo è quello di apto-tattico e questo è quello che è motattico ok non so se si vede ma praticamente la variabile qui sta dentro al gradiente qui invece sta fuori e quindi questo è un termine di trasporto allora cosa succede che se io prendessi queste equazioni ah scusatemi questa è un'altra equazione di diffusione questa è l'equazione di diffusione del fattore chimico che viene prodotto dalle cellule tumorali allora cosa succede che se io prendessi questa equazione e vado ah si va bene è andato bene guardate questa a sinistra questo qua questa è la simulazione di questa equazione nello spazio e nel tempo nel caso continuo vedete qualche capillare qui poi non si vede niente ok non è un capillare perché perché questa è l'equazione ora lo rifaccio andare e dovete vedere dovete pensarla così della quella che si chiama la cellula tip cioè il leader del mio nuovo capillare l'estremo per cui quella parte dal vecchio capillare e si muove di modo casuale verso il tumore quindi è questa e questa è la simulazione che si ha dando come condizione iniziale che c'è una cellula di quel tipo qui e si muove rispondendo alla discretizzazione di questa equazione cioè a un moto casuale con dei fenomeni diciamo di chemotassi che vanno quindi da qua verso il tumore che sta messo qui e quindi avete una cosa che visto che è rossa sembra di più un capillare un capillare un po' tortuoso e a un certo punto più o meno si ferma perché è arrivato a diciamo a destinazione e cos'è che potete immaginare qui che non ci sia quello che non c'è è che un capillare non è fatto così non è semplicemente una strada ma ci sono dei fenomeni ci sono due fenomeni uno è di diramazione cioè uno quando pensa a un sistema di capillari parte da uno poi ne ha due è come un albero per cui devo introdurre un fenomeno di diramazione dei capillari per cui da una se ne fanno due di queste cellule diciamo leader e questo è uno e il secondo è il fatto che se io avessi un vaso sanguigno fatto così non porta a nessuna parte perché non può scorrere il sangue qui per scorrere il sangue devo avere un loop un ciclo quindi devo andare come si dice dal sistema arterioso al sistema venoso allora introdurre questi fenomeni dal punto di vista continuo del modello continuo non è così semplice perché invece dal punto di vista discreto lo posso fare cioè do delle regole per cui a un certo punto c'è una diciamo così probabilità di branching di duplicarsi della cellula tip per cui una poi se ne andrà di qua e una se ne andrà di qua per modo casuale oppure quando due punte si incontrano dicono ma sai che c'è sono incontrate e hanno fatto il mio si chiama anastomosi hanno fatto il mio ciclo per cui il sangue alla fine va qua entra qua fa così va qua e continua ad andare più o meno e queste sono le simulazioni che vengono fuori un attimo un attimo un attimo un attimo un attimo un attimo ok e beh qua io penso che però questo è diciamo la parte che richiama queste capillari questa è la sorgente cioè il vecchio capillare sono nate delle cellule tipo qui si muovono di modo casuale si diramano tendono ad andare verso il richiamo diciamo così e mentre tendono ad andare uno crea questo plesso vascolare i colori sono legati allo spessore della cellula ok e potete paragonare a questo punto quello che c'è questo è vero questo è da un topo insomma il il tumore era qui era un tumore piano qui e questo è quello che si è ottenuto con la simulazione certo non è una proprio deve essere solo un raffronto qualitativo quello che si può fare non può essere quantitativo e invece questo è quello che succede quando una una sfera diciamo un tumore sferico per cui ho diciamo la struttura di questo plesso capillare è diverso perché si focalizza verso il centro e questo è la simulazione tridimensionale della cosa qui diciamo che la sorgente diciamo di VEGF di questo farmaco di questo farmaco di questo fattore chimico era qua nel piano inferiore mentre il capillare era nella faccia superiore il capillare è qua questa linea qui questa linea centrale è qua ci sono le diramazioni che si formano poi c'è il branching la formazione di questo plesso e si arriva qua in fondo ok questo è ottenuto semplicemente con una discretizzazione di un'equazione tipo l'equazione di diffusione che vi ho fatto vedere prima questo purtroppo è un po' piccolino ma tiene conto di appunto ci sono capillari su queste facce del cubo c'è una massa centrale e da queste partono si diramano dei capillari che poi si allargano e tendono a prendere a ricoprire tutta la la sfera centrale ok questo è un modello poi ce ne sono tanti altri questo è un modello semplice anche questo secondo me è abbastanza facilmente simulabile questo tiene conto di questo vedete io per esempio in questo quadrato delle cellule iniziali tip ok che si muovono con una certa velocità v che è data dal gradiente di concentrazione e vabbè lasciamo perdere questo il gradiente di concentrazione di un certo fattore chimico che nasce qui e poi c'è un termine casuale e queste praticamente danno fuori e danno luogo a queste formazioni insomma filamentose fino a riempire lo spazio se volete ecco questa è una simulazione tridimensionale con lo stesso modello questa è la chiamiamola così la massa tumorale e questo è il plesso vascolare che viene generato questa è la stessa di questo quando si elimina questo colore blu allora benissimo cosa me ne faccio di questo allora quello che posso fare una volta che io virtualmente una struttura a grafo diciamo un po' ad albero che mi simula il sistema vascolare posso vedere se io inietto un farmaco in quella in quella rete dove va a finire il farmaco ok ops scusatemi ma questo è il vaso preesistente questa è la struttura che non faccio vedere ora e questo è piano piano il farmaco che entra arriva a un certo livello e poi ritorna diciamo nella nella nel capillare principale questa seconda simulazione non ha niente a che fare con le equazioni di diffusione perché è solo il trasporto cioè io do un flusso in questo albero e il mio farmaco viene trasportato in questa rete lasciamo perdere il rimodellamento allora queste sono altre simulazioni più o meno dello stesso tipo allora qua c'è il tumore qua questo è una schematizzazione della rete vascolare questi quadratini che però viene cambiata nel tempo per angiogenesi e voi avete che nella zona periferica del tumore ci sono molti più capillari questi sono diciamo capillari grossi questa è una zona senza cellule per un fenomeno che spiegherò fra un po' e questo piano piano si espande ed è quello che si chiama un tumore vascolare e come ho detto prima anche in questo caso uno può vedere come in questo sistema vascolare un farmaco che viene da questa parte investe diciamo il tumore e quindi capire quanto ne viene preso per esempio quanto ne viene preso dalle cellule tumorali questo è molto simile però qua c'è la divisione fra sistema arterioso e venoso perché c'è un problemino di questo tipo in quel caso lì e uno ha una crescita di una massa col rimodellamento del sistema vascolare ok benissimo allora torniamo a problemini diciamo se vogliamo semplici che si possono anche fare sulla base dell'equazione di diffusione a dire verità questa non è più un'equazione di diffusione perché non c'è più la variabile nel tempo però potete pensarla così allora io ho un capillare ho un capillare attraverso cui passa il sangue e soprattutto passa l'ossigeno l'ossigeno filtra attraverso le pareti del vasso sanguigno e va nel tessuto circostante dove viene assorbito dalle cellule ok quindi l'ossigeno va qui e si diffonde nel tessuto circostante quindi l'equazione formalmente è un'equazione di diffusione però guardiamo al caso che viene chiamato stazionario stazionario vuol dire che non c'è più la derivata rispetto al tempo allora quello che io vi ho scritto come derivata seconda insomma malapraciano purtroppo in questo caso si scrive in questa maniera più complicata che non si risolve in maniera semplice è un'equazione lineare ma non si risolve in maniera semplice che dice che U è la concentrazione di ossigeno diffonde ma mentre diffonde viene assorbito con una certa diciamo velocità dalle cellule che stanno nel tessuto circostante allora ecco perché avevo bisogno della lavagna solamente per questo allora facciamo un caso molto più semplice allora supponiamo che la situazione non sia circolare ma sia semplicemente che qui ho il mio capillare ok rettilineo messo così non messo perpendicolare quindi sono in coordinate cartesiane questo è il mio tessuto circostante questo qui e quindi vado a vedere come come si diffonde l'ossigeno qua dentro allora quello diventa molto semplicemente la derivata seconda di u rispetto a x meno alfa u uguale a 0 oppure se volete uguale a alfa u ok x è questo e quindi potete chiedervi ok qual è devo mettere un d per essere coerente con ah no scusate purtroppo il d non l'ho messo vabbè qual è l'equazione qual è la soluzione di questa equazione cioè qual è la funzione che vuoi derivata due volte vi dà ancora una funzione che è uguale almeno è proporzionale o è un esponenziale o un seno e un coseno insomma però a dire la verità alfa è un termine positivo quindi deve essere per forza un esponenziale anzi ce ne sono due di esponenziali che possono avere una soluzione di questo tipo uno è un esponenziale del tipo viene a essere così è elevato a radice di alfa x e poi ce n'è un altro che è elevato a meno radice di alfa x ok e cosa succede che questa qui è un esponenziale che cresce quindi è una soluzione che parte da qui e vi cresce andando lontano dal vaso poco realistico e questa invece è una che parte dal vaso e scende giù esponenzialmente e in effetti quello che si vanno a dimostrare è che se uno studia questo problema questo problema questo come me l'ho messo qua ah ho sbagliato questa cosa qua l'ho copiata male vabbè fa niente perché questo è copiato da un altro problema questo dimenticatevi questo ma se uno studia il problema con queste condizioni che u in x uguale a 0 sia uguale a 0 e u per x che tende a più infinito sia uguale a 0 questo sarebbe x uguale a 0 e questo è x uguale a 0 allora uno ha che la soluzione è l'esponenziale u con 0 elevata a meno radice di alfa di x va bene? allora cosa vi dice questa soluzione? una cosa fondamentale vi dice che se io ho un capillare il tessuto circostante avrà una concentrazione di ossigeno che diminuisce in maniera esponenziale dalla distanza dal capillare questo vuol dire che se a un certo punto sarà questo questa è la funzione che se le cellule per vivere hanno bisogno di una certa quantità di ossigeno tutte le cellule che stanno al di là di questa posizione muoiono questo è quello che si chiama cilindro di Krog è stato trovato nel 900 è un centinaio di anni fa per cui vi dice che un capillare è capace di nutrire un raggio limite all'intorno all'intorno del capillare che è dell'ordine di massimo 100 micron poi dipende dal tessuto poi diciamo che va dai dai 20 ai 100 micron tutto il resto va in ipossia quello che si dice va in ipossia cioè muore tendenzialmente e la stessa cosa la situazione è molto simile al contrario se io guardo a una massa voglio crescere una massa in una sistema in vitro allora lì da dove viene l'ossigeno l'ossigeno viene dall'esterno ok l'ossigeno viene dall'esterno e se la massa è troppo grande per lo stesso identico principio non può arrivare al centro del tumore allora quello che vi faccio vedere ora questo è vero questa è una fotografia questo è un sferoide cresciuto in vitro di cellule tumorali ma qui semplicemente perché le cellule tumorali sono insomma più semplici da maneggiare dal punto di vista dell'esperimento non muoiono mai quindi è facile allora metti queste cellule le fai crescere e quello che uno ha è un aggregato fatto in questa maniera con un numero più o meno massimo di cellule un milione un diametro di un paio di millimetri di più non si riesce ad andare è molto difficile con un nucleo centrale che è un nucleo necrotico vedete il colore diverso con una regione di cellule qui intorno che non duplicano e una zona periferica che prolifera cioè essenzialmente di questa massa che sta crescendo solo questa zona qui sta proliferando solo le parti sulla superficie diciamo così mentre questa massa centrale non duplica e questa qui è tutta morta allora un paio di informazioni di carattere generale giusto così allora in effetti quello che si vede molto spesso oppure quello che si sente in un esame diagnostico diciamo autopalpazione per esempio al seno è questa parte qua questa è la parte calcificata dura che si sente ok e anche magari quella che si vede la parte qui esciente essendo di cellule che non proliferano è quella che è difficilmente attaccabile dai farmaci ok quindi questa è una parte dice vabbè ma sta qui scendo sta lì non fa niente non è vero perché questa nel momento giusto è pronta a riattivarsi e a proliferare e vabbè è la parte proliferante allora questo è quello che si chiama una crescita limitata alla diffusione di ossigeno per non pensarla sempre in negativo pensiamo in positivo immaginate che io voglia costruire in vitro un tessuto allora se io voglio costruire un vitro un tessuto cosa faccio prendo delle cellule le metto in coltura e vedo di coltivare queste cellule e farle andare allora questo mi dice che io non potrò mai fare in questo sistema un tessuto che sia più grande di due millimetri che me ne faccio di una protesi di due millimetri di un millimetro è piccola infatti nei reattori nei bioreattori quello che si fa è tutto un sistema per cercare di far penetrare il sangue cioè diciamo l'ossigeno all'interno di questo sferoide ok questa è la domanda fondamentale che fanno che ne so al Sant'Anna dalla mattina alla sera più o meno vabbè la fanno robotica soprattutto però diciamo quella è la cosa importante e quello che si sta cercando di fare a questo punto è questo ok insieme alle cellule del mio tessuto devo dare devo in qualche modo formare già i capillari dentro ok perché in questa maniera riesco a fare dei tessuti più grandi vascularizzati per cui riesco a crescere una cartilagine del ginocchio di magari qualche centimetro mi serve almeno un centimetro mi serve se no non faccio niente e e questa è una cosa mi stavo diventando un'altra cosa vabbè ma non fa niente eventualmente me la ricorderò ah ecco volevo dire infatti il primo tessuto che si è riuscito a fare in vitro quale è la pelle per quale motivo perché la pelle non è tridimensionale non è una struttura diciamo sferica è una superficie io prendo la superficie l'ossigeno arriva da sopra e da sotto non è che mi serve una superficie spessa moltissimo basta una superficie che mi ricopri la ferita insomma quindi due millimetri eh due millimetri manco la pelle la cotica di un maiale due millimetri insomma quindi mi serve qualche centinaio di micron prendo prendo la mia pellicola la metto sul paziente i vasi sanguigni vengono da sotto la nutrono come volete ma se voglio fare un pezzo di fegato il problema è grosso allora vediamo perché il problema è lo stesso dal punto di vista matematico allora a questo punto l'equazione è la stessa di prima la stessa che ho scritto qui questa qua solo che in questo caso invece di essere in coordinate cartesiane o cilindriche come prima per cui dovevo fare la soluzione con le funzioni di best insomma la soluzione è questa qua certo è un po' complicata non è che si insegna a scuola come si fa un problema del genere però alla fine se uno vuole andare a fare l'esercizio se uno prende questa funzione va a calcolare le derivate le moltifiche per r quadra vede che questa è la soluzione di questo problema cioè risolve questa equazione con delle derivate e soddisfa queste condizioni al bordo cioè che la concentrazione di ossigeno al bordo del mio aggregato il mio sferoide qua è normalizzata 1 ma potete mettere un 0 se volete una quantità e qui al centro al centro della mia sfera la derivata è 0 ok e allora la soluzione è più o meno se la andate a rappresentare graficamente è una cosa di questo tipo è un segno iperbolico su R insomma è una cosa di questo tipo allora cosa succede? succede come ho detto prima se io se questo è il valore del nutriente che io che arriva al bordo e lo sferoide è tale che c'è una soglia diciamo al di sopra della quale la cellula si permette di proliferare ma al di sotto della quale non prolifera più cioè insomma io devo avere uno stipendio come minimo di 2000 euro prima di fare un figlio allora vuol dire che solo questa zona qui solo questa zona di cellule vicino a R all'R grande diciamo questo qua sarà proliferante prolifera mentre se sono al di sotto questa soglia non prolifero qui è scente qui scente vuol dire che non prolifero e se in più ho bisogno di una certa di una certa quantità per sopravvivere vuol dire che da questo punto in poi in profondità andando in profondità tutte le cellule stanno morendo e quindi questo è un modo molto semplice per spiegare tre cose nucleo necrotico poi c'è una zona qui scente è una zona proliferante ok allora fatemi vedere un po' che le sono un attimo solo che vedo a che punto sto perché non voglio e li allungo va bene va bene allora altra equazione su cui baserò le discussioni finali diciamo equazione di bilancio di massa equazione di bilancio di massa si calcola in questa maniera se volete io prendo il mio volume se volete il campo del microscopio e vado a contare là dentro quante cellule ci sono e faccio un bilancio di questo tipo il numero di cellule che stanno là dentro può cambiare perché o le cellule stanno uscendo entrando dal mio campo visivo quello che prima avevo chiamato la migrazione oppure perché qua dentro le cellule stanno duplicando e stanno morendo questi sono i due principi base allora se faccio questo insomma le cose sono un pochettino complicate ma arriva un'equazione di questo tipo qua se volete questo phi chiamatelo rho è la stessa cosa se vi fa comoda la densità però insomma io ho chiamato phi perché phi cos'è? phi è il rapporto di volume cioè se voi vedete vedete sul vetrino vedete quanto spazio viene occupato dalle cellule tanto la densità è quella dell'acqua ok? la cellula è fatta d'acqua quindi questo questo rho che sta qua dentro è proprio la mille mille chilogrammi a metro cubo insomma è un numero quindi phi è un numero fra 0 e 1 ok? questa è l'equazione di bilancio di massa e dice che le cellule possono essere più o meno chiamiamole così dense perché si muovono con una certa velocità v e perché proliferano oppure muoiono allora il modello più semplice poi ora vi spiego subito per quale motivo sto facendo questa cosa qua il modello più semplice di per spiegare la crescita tumorale è quello che dice ok io ho una massa e la densità di cellule in quella massa è costante quello che ho chiamato phi è costante allora la cosa è molto semplice perché se io che quelle cellule sono delle sfere rigide occupano sempre il 67% dello spazio allora questo non cambia questo non cambia e ho un'equazione che è semplicemente divergenza di v uguale a gamma ho un campo vettoriale calcolo le derivate e ho questa cosa qua va bene allora per farvela breve se io prendo il sistema a simmetria sferica cioè penso alla sferetta scusate che ho dato un pochettino più veloce perché tanto ce ne ho cosa vuol dire tutto questo che se io integro faccio questo bilancio integrale e vado a vedere come cambia questo volume qui dentro ok per quale motivo cambia il volume del mio aggregato sferico allora se voi fate la derivata di 4 terzi pi greco r al cubo avete proprio questo questo vuol dire come cambia il volume della sfera cambia perché all'interno qua dentro le cellule stanno duplicando e sarebbe questo termine qua ok quindi se la densità è costante il problema è molto semplice perché vi dice subito che dato le regole di crescita le regole di crescita voi potete determinare quanto velocemente sta crescendo il vostro aggregato allora benissimo supponiamo che in questa zona tutte le cellule si duplichino abbiamo visto prima che non è vero ma io voglio arrivare lì tutte le cellule si duplicano quindi questa è una quantità costante se questa è costante questo posso integrarlo integrare di r quadro insomma posso integrarlo e quello che viene fuori è che la soluzione è esponenziale oppure se volete se io ho un aggregato in una sferetta in cui tutte quante le cellule si duplicano quella sferetta cresce il suo volume esponenzialmente o una crescita esponenziale ok il che vuol dire che nel tempo se voi avete che le cellule si duplicano ogni giorno questo è un classico ogni giorno lasciamo stare detto ogni giorno quello che succede è che se voi avete una sferetta di raggio che ne so 1 questa il raggio aumenta 8 volte in una settimana 66 volte in due settimane 8000 volte in un mese ok questa è la crescita esponenziale allora vediamo di fare un po' di conti una cellula è grande 10 micron quindi vuol dire che dopo un mese quella cellula è diventata un aggregato di 80 micron e in un mese è diventata 10 80.000 micron il che vuol dire 80 mm il che vuol dire che in un mese è diventata 8 cm cioè da una cellula in un mese io ho una cosa che è più o meno grande così ok? però capite che questo per esempio non avviene mai altrimenti chiunque ha qualche cosa che cresce di questo tipo è spacciato subito ok? seconda ipotesi abbiamo visto dall'esperimento che se invece che gamma che la crescita non è dappertutto ma è solamente in una zona periferica allora se supponiamo che in questa zona periferica c'è la crescita mentre in tutto quanto c'è solamente morte io posso ricalcolare quell'integrale si fa si può fare potete darlo perché è un integrale di r quadro insomma deve solamente spezzare bisogna spezzare in due integrali e uno riesce a ottenere che la soluzione non è più quella ma è questa qua almeno si approssima con questa cosa qui allora questa è una soluzione che se è pluttata fa questo aumenta 7 volte in una settimana 12 volte in due settimane in un mese 19 volte in due mesi 26 volte cioè siamo ben lontani dagli 8000 ok perfetto la crescita è così cioè è esponenziale all'inizio cioè quando le cellule sono poche poi dopodiché c'è una fase di crescita lineare che tra l'altro è quello che si osserva sperimentalmente nella maggior parte degli esperimenti se uno fa la maggior parte degli esperimenti vede che queste la crescita di questi aggregati sono lineari e poi cosa succede? vedete curva lineare e poi curva un pochettino fino ad arrivare a un caso a una situazione stazionaria c'è uno stato stazionario limite ok in effetti se uno va a mettere dei numeri trova che i numeri sono questi no se se la crescita il tasso di crescita è 10 volte il tasso di morte questo si misura più o meno questo è l'ordine di grandezza e se lo strato proliferante è di 40 micron uno arriva a un raggio limite di 1,2 mm vi ho detto che questi sono massimo 2 mm come diametro quindi questo cosa vuol dire? che basta uno strato proliferante di 40 micron 40 micron vuol dire 4 strati cellulari solo quelli proliferano e muore tutto all'interno arriva alla fine dei conti con una massa globale in cui lo strato superficiale bilancia la morte di tutto il volume in questo bilancio fra massa fra proliferazione superficiale e morte volumetrica che uno ha uno stato stazionario e quindi ha queste situazioni qua vabbè vi faccio vedere delle simulazioni che si hanno sulla base di questi modelli qua che vi ho fatto vedere ecco qua queste sono delle simulazioni la zona rossa e la zona proliferante è nera e crescente mentre bianca è quella che diventa necrotica quindi vedete nella crescita di la verità siamo ben lontani dall'essere sferico e in effetti la situazione sferica è una situazione un po' che si realizza poco diciamo in vivo negli esperimenti va bene quando la massa è piccola ma quando la massa diventa un pochettino più grande si hanno queste instabilità o addirittura una situazione in cui questo non è andato la stessa cosa vabbè non ho legato uno ha proprio la formazione di frammenti cioè uno perde parte da un aggregato e poi si frammenta si hanno queste non sono singole cellule sono aggregati che tendenzialmente vanno questo ovviamente secondo il modello secondo il modello matematico e uno può prendere questo modello e farne una simulazione questa è una sorta di parte di cervello questa è la parete cellulare questa è la massa tumorale questo è quello che si chiama sulci la piega del cervello ovviamente quando il tumore va nella parte in cui non ci sono cellule è molto più rapido e quindi una delle crescite che sono completamente lontane dall'essere delle crescite sferiche molto asimmetriche allora vi faccio vedere degli altri tipi di simulazione che più o meno spiegano la stessa cosa questo è quello che vi ho detto io prima vedete qua è simulato con un altro tipo di modello cosa allora questo è il capillare questo è il mio tessuto bianco vuol dire tessuto normale ho delle cellule chiamiamole tumorali che comunque mangiano molto più ossigeno queste verdi sono quelle che sono in qualche modo contente di vivere queste gialle sono quelle quiescenti oppure in ipossia perché sono troppo lontane dal capillare ok questo è un modello che è discreto a questo punto perché vedete le singole cellule che si chiama modello individual based cioè guarda alla cellula individuale ve ne faccio vedere un altro tridimensionale poi torno su questa ok questo è il capillare così come è fatto questo è l'insieme di cellule che piano piano copre il capillare e va avanti questo è un altro tipo di modello che in qualche modo sarà la base di quello che chi ci sarà qui la prossima settimana vedrà questa simulazione su un singolo capillare ovviamente si può fare anche dal punto di vista continuo ops non so che cosa ha fatto forse ho più motonesco ce la facciamo sì ma dovremmo partire lo stesso ah perché sta qua un attimo solo ci vedete qua allora ecco qua un attimo solo allora questo è cosa è il modellino che vi ho fatto vedere prima quello di crescita associato all'equazione di diffusione da parte di questa rete di capillari questa è la chiamiamo così la massa che preferisce crescere ovviamente lungo i capillari e una volta che è arrivato ai capillari cresce lungo il capillare qua non c'è aggiongenesi non c'è formazione di vasi sanguigni nuovi e cresce in questa maniera anisotropa queste zone viola sono le zone in ipossia quindi questo tessuto praticamente sta morendo più che crescere e uno ha quindi una crescita che segue la struttura capillare che uno ha giusto per farvi vedere delle figure biologiche per chi è interessato questo per esempio è quello che vi ho detto prima vedete questo qua è un capillare questo è un tumore della cervice questo è il sistema di cellule intorno a questo capillare qua c'è un altro di capillare qua c'è un altro di capillare e questa è tutta la zona necrotica cellule morte qui è la stessa cosa questo è il tumore del colono questo è il capillare questo sono le cellule vive questa è in ipossia e qua è tutto morto ok quindi vedete tutte queste cose sulla diciamo sulle caratteristiche di crescita di morte eccetera eccetera alla fine tutti quanti si basano su concetti abbastanza elementari poi il modello può essere complicato quanto volete però insomma i principi base sono effettivamente molto semplici ripeto io mi fermo qua perché la prossima volta appunto vedrete la parte di individual base è la parte che si chiama cellular post model cioè proprio trattare la cellula come una singola cellula trattare l'insieme di cellule come singole entità che interagiscono e i modelli non sono più alle derivate parziali e quindi sono modelli individuali però per fortuna ci sono anche dei software che se fanno bene insomma dovreste poter utilizzare facilmente grazie per l'attenzione grazie grazie ci sono domande volevo chiederti hai fatto un cenno sulle difficoltà di tradurre poi questi questi metodi queste simulazioni in proprio diciamo a livello terapeutico ma diciamo l'impiego però almeno a livello diagnostico questo è abbastanza diffuso oppure si sta facendo si sta facendo abbastanza avanti anche perché il costo oramai è abbastanza basso quindi strumenti di supporto ci sono e anche se vogliamo una cosa molto diversa nel senso che prima c'era una questione anche psicologica nel senso che tendenzialmente il medico diciamo di una volta ma di una volta intendo dire anche di dieci anni fa voleva avere lui in mano il polso della situazione lui doveva decidere era molto meno sensibile al fatto che qualcun altro gli potesse dare uno strumento cioè era abituato all'ecografia perché là non riesce a vedere niente ma che qualcuno gli disse uno strumento che gli dice guarda che se usi questo fai meglio la decisione non era molto ben accetto ben accolto secondo me anche col fatto che oggi insomma la genomica tutte queste cose che si vanno a sentire hanno fatto sì che il medico non ha più tanto il polso della situazione deve un po' farla anche come dire un po' di fede un po' di utilizzo di strumenti che lui non aveva prima fa sì che in qualche modo sia aperto a una possibilità di utilizzare questi strumenti ecco quindi sì sì diciamo che futuro erosio prima di vedere un matematico in ospedale ci vuole un po' però insomma a meno che non sia malato quello succede spesso quasi tutti prima o poi mettere a disposizione delle strutture sanitarie sì esatto dall'esterno dall'esterno ecco per esempio una cosa che molto spesso si fa e ovviamente non sono questi modelli qua tutti quegli attrezzi che in qualche modo sono nascosti nella diagnosi c'è conoscopia virtuale imaging tutte quelle cose lì che hanno a che fare con algoritmi che se vogliamo il medico non vede no? però gli fa comodo avere e beh quello sì cioè avere il giochettino che col joystick ti fa andare dentro al colon a vedere quello che succede quello gli piace bene allora dunque se non ci sono non lo so no no sto pensando che effettivamente via andare a entregare e vedere quello che mi riesce a vedere con l'occhio vero mentre invece di una previsione sul palo non può creare e quindi c'è meno fiducia nei prodotti di quello eh sì sì anche quello però per esempio là io cioè c'è stato un periodo in cui io avevo fatto un progetto con dei ragazzi cioè i ragazzi lo stavano facendo e avevano questo tool per come dire per la diagnosi no? generale cioè una specie di come dire di vocabolario con delle domande che conviene fare tipo diagnostico qualcosa del genere i medici avevano detto subito no ma gli infermieri e soprattutto quelli del pronto soccorso hanno detto questo lo vogliamo subito perché noi dobbiamo decidere in tempo zero cosa fare quindi questi strumenti di sopporto alle decisioni che poi possono andare appunto dal diagnostico dell'imaging ma anche semplicemente ok gli chiedo questo allora uno strumento di informatica intelligente che mi dice dopo fagli questa domanda vedi come risponde preindirizza a una diagnosi finale certo con una certa probabilità non sarà uno sostitutivo del medico però questo è utile è tutto un altro campo però insomma ok se non ci sono interventi dunque ho qui le crocette che avete messo per la prossima settimana e qualcuno di voi l'ha messa in tutti i due giorni allora direi che che Grazie.